Sul lanciato Filippo ha fatto qualcosa di veramente mostruoso, tutti bravi Filippo, c'è stato un bel riscatto questa tappetta? Sì, ma diciamo che io è come se avessi fatto due Olimpiadi, una da solo e una con tutta la squadra e una è andata benino e l'altra è andata discretamente bene Però non ho pensato a riscattarmi o niente, ieri ho semplicemente pensato che questa sarebbe stata la mia ultima gara in questo stadio e avrei dovuto fare tutto per onorare il loro lavoro, il nostro lavoro e tutto il supporto che ci è arrivato in questi giorni dall'Italia